Una delle persone nella foto della copertina di questo video nascondeva un segreto davvero ghiacciante. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, nessuno poteva prevederlo. Eppure, in un giorno qualunque del 2017, un'intera cittadina è rimasta sconvolta quando questo segreto è venuto alla luce. Ragazzi, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi vi porto a Strongsville, che neanche a farlo apposta si trova in Ohio. Scusate il rumore, ma uno dei miei gatti è in bagno. Attendiamo. Dicevo, a Strongsville in Ohio nel 2017 una famiglia apparentemente normale e rispettata da tutta la cittadina è finita sotto i riflettori per una cosa davvero orribile. Vi avviso, questa vicenda sembra uscita da un film horror e non sto esagerando. Prima di cominciare però devo ricordarvi che su Pampling trovate le magliette che indosso nei video, inclusa questa qua, Italian Nightmare, con gli spaghetti spezzati, letteralmente l'incubo degli italiani. Comunque, mettendo il codice Andrew, poi una volta che avrete acquistato qualcosa, insomma, riceverete anche delle calze a vostra scelta, totalmente in omaggio. Fatemi sapere se prendete qualcosa, perché non mi dite mai niente riguardo a Pampling. Anche se vi piacciono le cose che avete ordinato, tutto qua, cioè ditemelo, io, a me interessa. Perché io mi trovo stra bene, spero che vi troviate bene pure voi, insomma, come minimo. Detto questo, iniziamo con il file di oggi. Partiamo parlando di Strongsville, la cittadina in cui si ambienta tutto quanto. Si tratta appunto di una piccola cittadina non lontano dalla città di Cleveland. Strongsville conta circa 46.000 abitanti ed è definito come un sobborgo molto tranquillo, con tanto verde, scuole di ogni tipo, conosciute per essere particolarmente prestigiose e vari quartieri residenziali. Insomma, la classica cittadina americana in cui tutti si conoscono non succede mai niente. Le persone che ci vivono la descrivono come la cittadina perfetta per crescere una famiglia e in effetti sembra proprio essere così. Conosciuta come una delle migliori città in cui vivere in Ohio, Strongsville ha anche un tasso di criminalità piuttosto basso, il che è da tenere in forte considerazione per una famiglia. Quindi quando è accaduto ciò che voglio raccontarvi oggi, gli abitanti sono rimasti profondamente sconvolti. Non saprei davvero da dove cominciare, quindi per cercare di capire bene cosa è successo dobbiamo tornare indietro di qualche anno, più di preciso all'inizio del 2016. In quel periodo due persone che vivevano da tanto tempo a Strongsville ricevono finalmente una notizia bellissima. Si tratta di Melinda e Bruce Pleskovic che scoprono che Anna, la loro figlia di 20 anni, è incinta e sta aspettando un bambino. Il fidanzato della ragazza si chiama Jeffrey Scullin e anche lui ha 20 anni. Bruce e Melinda comunque quando ricevono la notizia sono al settimo cielo, accolgono questa novità con molto entusiasmo davvero. Non vedono l'ora di diventare nonni, poter aiutare la figlia con un nascituro e sono veramente felici. Allo stesso tempo però i genitori di Anna sanno benissimo che lei e il suo ragazzo avrebbero avuto non pochi problemi a prendersi cura di un figlio. E tutto per via della loro situazione economica non proprio stabile. La ragazza infatti a quel punto vive ancora con loro, ma lavora, fa la cameriera in un ristorante non lontano da casa, più precisamente in una catena chiamata Applebee. Jeffrey invece lavora come tecnico di un'azienda di impianti di riscaldamento, ma nonostante il suo salario sia migliore rispetto a quello di Anna, i soldi non sarebbero comunque bastati per mantenere l'intera famiglia. Così Bruce e Melinda cominciano a cercare diverse possibilità per aiutare la coppia e arrivano ad una conclusione che avrebbe potuto risolvere tutto, o comunque almeno momentaneamente. Propongono alla figlia di far trasferire Jeffrey a casa loro, in questo modo i due avrebbero avuto il sostegno e l'aiuto dei nonni materni e ciò avrebbe anche permesso ai giovani di risparmiare un po' per poi trasferirsi quando sarebbero stati pronti. E sentendo questa proposta Anna non riesce a contenere l'entusiasmo, è davvero super grata che i suoi genitori le permettano di far venire Jeffrey a stare da loro e anche lei pensa che sia la cosa giusta da fare, la cosa più conveniente per tutti. Così chiama Jeffrey e gli parla per la prima volta di questa proposta, con tantissimo entusiasmo, al che il giovane futuro padre si dimostra altrettanto grato per l'opportunità e decide di accettare. Alla fine davvero, se non fossero stati entrambi da loro, le cose non sarebbero andate molto bene con un figlio a carico. E solo io trovo tristissima questa cosa, che nonostante lavorassero entrambi comunque non avrebbero avuto la possibilità di crescere un figlio. È una cosa che succede anche qui, forse addirittura di più rispetto agli Stati Uniti, non vorrei dire cagate. E davvero comunque mi mette una tristezza allucinante. Comunque, argomenti del genere a parte, nel giugno del 2016, lo stesso mese in cui Jeffrey e Anna danno la luce alla loro figlia, lui lascia la casa dei suoi genitori e si trasferisce a casa di Bruce e Melinda per poter star vicino ad Anna e la bambina. Tutto sembra suggerire un futuro meraviglioso per questa nuova famiglia riunita. Tuttavia, poco dopo essersi trasferito lì, iniziano a capitare degli strani avvenimenti intorno alla proprietà. Avvenimenti che lasceranno tutti estremamente preoccupati in quella casa. Passano solo pochi giorni dal trasferimento di Jeffrey in casa dei Pleskovic e una delle loro prime serie insieme cominciano ad accadere cose strane, cose che sentendole vi ricorderanno la trama di un film horror a tratti paranormale. Lui e Anna quella sera sono in casa da soli, stanno cenando tranquillamente al tavolo della cucina, passando una serata assolutamente normale. Ad un certo punto però, lui volge lo sguardo fuori da una delle finestre che dà sul cortile e sul retro della proprietà. Per farvi capire come si presenta la proprietà dei Pleskovic, vi metto una foto trovata sul web che ritrae un enorme prato che circonda le case di quel quartiere e ogni casa sembra avere praticamente enormi spazi verdi non delimitati, come se fosse un giardino comune tra tutte le case. Jeffrey quindi, dicevo, guarda fuori dalla finestra verso l'enorme distesa e in lontananza nota con preoccupazione qualcosa che sembra muoversi. All'inizio non riesce a capire di che cosa si tratti, perché era buio, era sera. Così si alza, si avvicina alla finestra per cercare di mettere a fuoco e nota che fuori dalla proprietà c'erano quattro sagome che stavano lì, ferme in piedi. Jeffrey nota anche del fumo sopra di loro e deduce che stessero fumando una sigaretta. Il giovane quindi chiama Anna, piuttosto perplesso, al che lei si avvicina alla finestra a controllare. I due rimangono qualche istante a fissare quelli sconosciuti lì fuori. All'inizio pensavano che fossero solo dei passanti, ma dopo qualche minuto, notando che quelle persone non accennavano ad andarsene, cominciano a preoccuparsi seriamente. Vi ricordo che nonostante fossero solo lì a fumare, presumibilmente, stavano comunque commettendo un crimine, perché in America la violazione della proprietà privata, anche che, in questo modo, è considerata appunto un crimine punibile per legge. A questo punto comunque la coppia decide che sarebbe stato opportuno uscire e cercare di mandargli via. Ma prima ancora che potessero fare qualsiasi cosa, all'improvviso una di quelle quattro sagome si volta in direzione della casa e inizia ad avvicinarsi. Avanza lentamente, ma alla fine si ferma più o meno al centro del giardino, accanto al tappeto elastico della famiglia. E subito dopo comincia a giocare sul tappeto elastico, mentre le altre tre figure rimangono lì dietro i mobili nello stesso punto di prima. A quel punto Anna inizia a sentirsi decisamente a disagio e propone di chiamare la polizia. Jeffrey è d'accordo con la sua idea, così fanno la chiamata. La fa Anna in realtà. E pochissimo tempo dopo arriva una pattuglia a casa della giovane coppia. All'arrivo degli agenti, però, non c'era più nessuno. Quelle quattro strane figure erano scomparse nel nulla e non c'era alcun segno di loro. I due agenti sul posto si dirigono subito nel retro del giardino, ma appunto non trovano né i quattro sconosciuti che la coppia diceva di aver visto, né nessun mozzicone di sigaretta che potesse indicare una traccia di passaggio di qualcuno che era lì a fumare. Uno dei due agenti quindi rassicura la coppia, dice loro che sicuramente si era trattato di un gruppo di ragazzini e conclude dicendo di non esitare a richiamarli se per caso questi individui sarebbero tornati. Quando Bruce e Melinda tornano a casa e scoprono cosa è successo rimangono abbastanza sorpresi, perché in tutto il tempo in cui avevano vissuto a Strongsville non era mai capitato niente di simile. Nessuno aveva mai messo piede nella loro proprietà. Alla fine era una cittadina sicura, no? Nei giorni successivi in casa Pleskovic si respira un'atmosfera un po' nervosa, tesa, ma grazie alla spensieratezza che la neonata porta in casa, la famiglia riesce a dimenticare abbastanza in fretta l'accaduto. Passano i mesi e arriva così il novembre del 2016. Anna è a casa da sola con la bimba. Le due sono al piano terra, stanno giocando tranquillamente, quando all'improvviso la ragazza sente uno strano rumore, come se qualcuno stesse cercando di aprire la porta ed entrare in casa. La giovane mamma si alza e come prima cosa pensa semplicemente che si tratti di Jeffrey o dei suoi genitori. Magari avevano dimenticato le chiavi di casa o comunque qualcosa all'interno della casa e quindi erano tornati per recuperarli. Prende sua figlia in braccio e si dirige verso la porta, ma quando passa davanti a una delle stanze, quasi per sbaglio, volge lo sguardo fuori da una delle finestre che davano sul cortile sul retro. E lì, immobile con la faccia premuta contro il vetro, c'era una presenza nera, ma proprio talmente scura da non riuscire a riconoscere alcun dettaglio del suo viso. Stava guardando all'interno della casa. Anna si blocca e sussulta dallo spavento, si abbassa per nascondersi e capisce immediatamente che deve essere lo stesso individuo che aveva provato ad entrare in casa sua qualche minuto prima. La ragazza, presa dall'adrenalina, decide di salire il piano di sopra, si chiude in camera e chiama subito la polizia. All'arrivo della pattuglia, però, ancora una volta, non c'è più nessuno. La strana figura che qualche minuto prima aveva provato ad aprire la porta sembrava svanita nel nulla. Oltre a ciò, non risulta esserci nemmeno nessun segno di effrazione, quindi i poliziotti dicono di nuovo ad Anna che non possono fare nulla se non suggerirle di chiudere sempre e comunque, a chiave, la porta, ovviamente anche di richiamarli se fosse necessario. La ragazza decide quindi di chiamare Jeffrey e i suoi genitori, racconta loro quanto accaduto poco prima e tutti si precipitano subito a casa. Superato lo shock iniziale, i membri della famiglia iniziano a parlare tra di loro, si confrontano, pensano a cosa fare per stare al sicuro e cominciano ad ipotizzare che questo incidente fosse correlato alle strane figure avvistate mesi prima nella proprietà. Sembra strano in effetti che i due avvenimenti si siano verificati a così poca distanza di tempo. E se fosse qualcuno che ce l'aveva con loro per qualche motivo? E se questo qualcuno avesse voluto far loro del male? I comportamenti strani e inquietanti di queste persone sconosciute sicuramente non facevano presagire niente di buono. Ma poi, solo io trovo strano il fatto che Anna non sia riuscita a distinguere il volto dell'intruso nonostante fosse attaccato letteralmente alla finestra. A quel punto io, tipo, avrei pensato a qualche demone strano, sinceramente, dato che non gli vedeva la faccia per quanto era buio, ma fa sicuramente più paura pensare che fossero delle persone con cattive intenzioni che ce l'avevano con loro per qualche motivo. I Pleskovic, però, non avevano nemici. Erano una famiglia tranquilla e rispettata e, in generale, erano adorati da tutta la gente di Strongsville. In particolare Melinda aveva un'ottima reputazione in quanto era stata insegnante in una scuola media per vent'anni e i suoi studenti la adoravano, ne parlavano sempre bene, si erano proprio affezionati, ma faceva anche l'allenatrice di calcio per una squadra locale. E agli occhi della comunità era vista davvero anche come una sorta di ispirazione, dato che non era solo la madre di Anna, ma anche la mamma di un ragazzo di 18 anni con la sindrome di Down di nome Kyle. Nonostante tutte le difficoltà che la patologia porta con sé, Melinda riusciva ad essere una grande madre, coinvolgendo Kyle in ogni attività possibile. Quando gli abitanti incrociavano il ragazzo con sua madre, lo vedevano sempre sorridente, e anche se per via della gravità del suo caso specifico non riusciva a parlare e non riusciva neanche a esprimersi normalmente, era ovvio che Melinda lo rendeva estremamente felice. Insomma, una madre modello, fonte di ispirazione per tutti gli abitanti della cittadina. A partire dal secondo incidente, i Pleskovic iniziano a preoccuparsi davvero per la loro sicurezza. Anna non può fare a meno di controllare perennemente le finestre, ma lei non è la sola a diventare ansiosa. Pare che tutti abbiano cominciato a vivere in un clima di tensione costante, con il perenne terrore che quegli sconosciuti sarebbero ritornati, e purtroppo per loro, torneranno. Nel gennaio del 2017, quindi poco più di due mesi dopo l'ultimo incidente, l'auto di Bruce viene scassinata. I vetri della macchina che si trovava sul vialetto della proprietà erano stati distrutti, e il portatile dell'uomo, che era al suo interno, era stato rubato. Vedendo la scena, Bruce chiama subito la polizia per denunciare il furto, ma né il portatile, né chi ha commesso il furto vengono effettivamente rintracciati, e così la famiglia inizia ad avere la sensazione di essere abbandonata a se stessa. A questo punto, per loro, era chiaro che gli agenti non avrebbero potuto fare nulla per aiutarli, e che, se ci pensate, è davvero orribile. E le cose strane, purtroppo, continuano e peggiorano da quel momento. Una notte, Anna e Jeffrey sono a casa da soli con la bimba, quando la ragazza guarda fuori da una delle finestre che dà sul retro, ormai ce l'aveva come abitudine, controllava sempre. Questa volta, però, con orrore, lì in mezzo al prato, vede di nuovo tre figure questa volta, figure nere, immobili, nello stesso esatto punto in cui li avevano visti mesi prima. Le tre sagome, però, sembravano semplicemente stare lì ferme a fissare la casa dei Pleskovic. Anna spaventata prende immediatamente il cellulare e chiama subito la polizia, ma Jeffrey questa volta non è intenzionato a farli scappare. Prende una torcia elettrica e si precipita fuori correndo sul retro della proprietà, ma ancora prima che il ragazzo riuscisse a puntare la luce verso le figure, queste si dileguano. Scappano senza lasciare tracce. Così quando arriva la polizia, che era già a conoscenza delle numerose cose strane avvenute nei mesi precedenti, decide di perlustrare l'intero isolato per cercare di scoprire qualcosa. Come sempre, però, non trovano nulla. Quindi ai Pleskovic viene di nuovo detta la stessa identica cosa. Questa volta, però, si sentono davvero abbandonati e in pericolo. Vi immaginate vivere così? Che ansia, davvero. Cioè, cosa puoi fare in situazioni come queste? Niente. Comunque passa un mese, arriva agosto, e una sera Anna si trova in casa con sua figlia e sua madre Melinda. Mentre la ragazza è intenta a giocare con la piccola, sente di nuovo un rumore molto familiare. Lo stesso che aveva sentito mesi prima. Ovvero, il rumore di qualcuno che stava di nuovo cercando di aprire la porta. La giovane mamma si allarma, ma decide di non chiamare subito la polizia, anche perché ormai sapeva come sarebbe andata a finire. Decide invece di andare a controllare, cosa che vi consiglio di non fare mai. Lei però prende la bimba in braccio e percorre tutto il corridoio fino ad arrivare alla porta vetrata da cui proveniva l'inquietante rumore. Si sporge lentamente per non farsi vedere. E quando finalmente ha una visuale completa, quello che vede la fa urlare a squarciagola proprio distinto. Proprio fuori dalla porta, vede due sconosciuti che cercavano di aprire e entrare in casa. Ma nel momento in cui sentono le urla di Anna, scappano via. Melinda, che intanto si trovava al piano di sopra, scende di corsa e trova la figlia in preda al panico e ovviamente la nipotina è in lacrime. La donna decide quindi di chiamare la polizia, che arriva pochi minuti dopo. La proprietà viene di nuovo perquisita, ma ancora una volta non viene trovato nulla, assolutamente nessuna traccia di nessuno, ma neanche tipo impronte, niente. Gli agenti sono profondamente amareggiati e dicono alla famiglia che sicuramente sarebbero riusciti a trovare questi malintenzionati, che ormai li perseguitavano da quasi un anno. Ma in quel momento non potevano fare nulla se non provare ad aumentare i giri di ronda intorno alla casa. In questo modo passa un altro mese, una mattina di inizio settembre. Melinda si alza, ma quando va per cercare le chiavi della macchina quando doveva uscire di casa, non le riesce a trovare da nessuna parte. Sembrano letteralmente svanite nel nulla e nessuno avrebbe potuto prenderle o spostarle, cioè era una cosa inspiegabile, soprattutto perché non le ritroverà più. Ma la cosa ancora più strana è che da quel momento l'allarme della sua auto comincia ad attivarsi senza apparenti motivi più volte nel corso del tempo. Oltre a ciò, pochi giorni dopo, la famiglia scopre dei chiodi conficcati nelle gomme dell'auto di Bruce. L'uomo allora chiama di nuovo la polizia e racconta anche questi nuovi episodi strani e minacciosi, perché ormai era chiaro che questi stalker stessero cercando di minacciarli, ma gli agenti si rivelano di nuovo impotenti di fronte alla situazione, cioè vorrebbero far qualcosa veramente, vorrebbero aiutarli, ma non hanno nessun cavolo di indizio, non c'era niente. Per quello dico che ogni tanto a tratti sembra un film horror paranormale, perché sti cavolo di individui, come cavolo facevano, cavolo, a sparire nel nulla senza lasciare nessuna traccia. Comunque, Melinda, a quel punto frustrata, sente di non poter contare sulla polizia e quindi decide di rivolgersi a Facebook. Pubblica un post in cui scrive che qualcuno le ha rubato le chiavi della macchina e in sostanza supplica a chiunque stesse molestando la sua famiglia di smetterla e lasciarli in pace, non ce la faceva più. A seguito di questo post la donna riceve tanto affetto da amici e conoscenti di Facebook, tuttavia la situazione non sembra affatto migliorare. Un mese più tardi, il 19 ottobre, Jeffrey è a casa da solo, quando all'improvviso sente il rumore di qualcuno che cerca di forzare la serratura della porta sul retro. Il ragazzo sa bene che ogni volta che Anna sentiva quel rumore poi si ritrovava degli inquietanti sconosciuti davanti. Così si alza portando con sé il cane, si sporge nel corridoio, guarda in fondo per vedere chi è e proprio in quel momento nota che c'è uno sconosciuto con il cappuccio che cerca di aprire la porta. Il cane si mette subito in allerta e inizia ad abbagliare e poi corre verso la porta, Jeffrey ovviamente lo segue, ma appena l'inquietante sagoma nota il ragazzo avvicinarsi insieme al cane, si dilegua, si gira e scappa. Così i due rimangono dentro casa ad osservare lo sconosciuto che attraversa la proprietà correndo e scompare tra gli alberi. Sicuramente era una persona, non era un demone dai. Quella sera quindi si conclude così, in maniera come da solito misteriosa e sempre più preoccupante. Quattro giorni dopo, il 23 ottobre, Jeffrey e Bruce decidono di andare all'Apple B, il locale dove lavorava Anna, portando anche la figlia piccola di Jeffrey e Anna. Vanno lì per cenare, chiacchierare e allo stesso tempo stare un po' insieme ad Anna, nonostante stesse lavorando. Melinda e Kyle quindi rimangono in casa, come sempre chiusi a chiave per via degli incidenti dei mesi precedenti. Comunque finita la cena, i due e la piccola salutano Anna ed escono dal locale per tornare a casa. Quando arrivano lì, Bruce è il primo ad arrivare davanti alla porta principale. Così bussa e Kyle va ad aprirgli. Bruce entra, seguito da Jeffrey che stava tenendo in braccio sua figlia. L'uomo attraversa tutta la casa e arriva in cucina. Accende le luci e lì, sul pavimento della stanza, vede una cosa scioccante. Subito dopo anche Jeffrey arriva in cucina e appena si rende conto di cosa ha visto, si gira e corre fuori di casa prendendo in braccio sua figlia e portando con sé anche Kyle. Una volta fuori, il ragazzo chiama il 911 e durante la chiamata si capisce benissimo che non è neanche in grado di elaborare quello che è successo. Tanto era macabre la cosa che aveva visto. Do you know? No, we just came home. She's on the kitchen floor. I took her son and my daughter outside. Her husband is inside with her now. So the husband attacked her? No, no, no. We just came home. We just came home. You came home and found her injured on the floor? We found her in the kitchen. She's not moving. I took the kitchen and I walked outside. I didn't know where it was. So she was beaten or what? She has blood all around her. I didn't look. I just grabbed the child and went. Can you please send someone here? I am, I am. Hold on a moment. Don't hang up, sir. Do not hang up. Jeffrey e Bruce, quella sera, avevano trovato il corpo di Melinda steso sul pavimento della cucina. La donna era stata pugnalata più di 35 volte e le avevano sparato 3 volte. È stata subito portata d'urgenza all'ospedale, ma purtroppo è morta quella stessa notte. Nonostante la famiglia fosse sotto shock e non riuscisse ancora a elaborare ciò che era successo, erano tutti consapevoli del fatto che chiunque avesse fatto questo a Melinda doveva essere collegato a tutte quelle persone strane che erano state avvistate intorno alla casa. Quella sera, la sera dell'omicidio, anche Bruce ha chiamato il 911. Era in cucina, inginocchiato accanto alla moglie morente, quando ha fatto questa chiamata. Do you see anyone else in the home? La polizia di Strongsville apre subito un'indagine e risolve il caso in soli 4 giorni. E quando vengono condivise le scoperte fatte in queste indagini, i segreti che una delle persone nella foto della copertina nascondeva rimangono tutti increduli e scandalizzati. Torniamo indietro alla notte in cui fu scoperto il corpo, il 23 ottobre. Quella sera, prima di cena, in casa c'erano Melinda, Kyle, Jeffrey e la loro figlia piccola. Secondo le ricostruzioni, Jeffrey ad un certo punto ha posato sua figlia dentro il box dei giocattoli e si è poi diretto in cucina, dove si trovava Melinda, ma presumibilmente anche Kyle. Poi, senza esitare, senza dire niente, senza spiegare niente, si è avvicinato a Melinda, ha tirato fuori un coltello e l'ha pugnata 35 volte. Una volta a terra per assicurarsi che morisse, ha estratto una pistola e l'ha colpita altre 3 volte. Intanto sua figlia era tranquilla nei paraggi che aveva sentito tutto. Essendo così piccola però non poteva capire ovviamente. Poi Kyle, oddio, anche lui era in casa, non è chiaro dove si trovasse, ma è sicuro che ha visto qualcosa e ha sentito tutto. Sicuramente ha visto sua madre morente dopo l'attacco, dato che è rimasto in casa per tutta la durata della cena. Comunque dopo l'aggressione, Jeffrey ha ripulito l'arma del diritto, si è tolto i vestiti insanguinati e li ha nascosti nella sua auto. Ha poi preso in braccio sua figlia ed è uscito tranquillamente per andare a cena con suo suocero, lasciando Kyle a casa da solo con sua madre che era quasi senza vita. Jeffrey è andato a quella cena lasciandolo lì come se nulla fosse successo. Una volta tornati poi il ragazzo sapeva benissimo cosa avrebbe trovato in casa, e per questo ha fatto entrare Bruce per primo in modo da non dover neanche mostrare una reazione di sorpresa al ritrovamento. Ma arriviamo ora al movente dell'omicidio, perché è un argomento molto spinoso in questo caso. Sappiamo molto poco sulle ragioni effettive che avrebbero spinto Jeffrey ad uccidere Melinda. In realtà il ragazzo non si è mai davvero esposto sulla questione. Quindi, come sempre, sono nate diverse teorie, una delle quali riguarda l'aspetto economico di Jeffrey. Si pensa che il ragazzo non sarebbe stato in grado di pagare il matrimonio tra lui e Anna, che si sarebbe dovuto tenere di lì a poco nei giorni successivi a quando poi però è avvenuto l'omicidio. Però la struttura che avrebbe dovuto ospitare la coppia per il grande evento aveva contattato Melinda per informarla che il suo futuro genero non era stato in grado di ricoprire le spese, e per questo motivo il matrimonio era annullato. Melinda, venendo a conoscenza di questa informazione, si sarebbe confrontata con Jeffrey, parlando dei suoi problemi finanziari, probabilmente sia anche un po' incazzata, ok? Il che potrebbe avergli dato talmente fastidio, potrebbe avergli provocato talmente tanta frustrazione da compiere il delitto. Eppure, sebbene questo sia un movente più che plausibile, c'è un altro dettaglio assolutamente da non tralasciare. Gli agenti, infatti, durante le indagini hanno scoperto che Jeffrey era il responsabile dietro ogni singolo evento inquietante che era accaduto intorno a casa loro. In pratica ogni volta che la famiglia ha visto degli estranei in agguato nel giardino o davanti alla porta, erano sempre amici di Jeffrey o persone addirittura assunte da lui per spaventarli. In alcuni degli avvistamenti, a quanto pare, era Jeffrey stesso ad essere lì a fare lo sconosciuto che spaventa la famiglia, cioè. Poi altra cosa da tenere in conto è la testimonianza di un amico di lunga data di Jeffrey. Questo ragazzo ha detto che Jeffrey aveva sempre odiato profondamente Melinda. Infatti, nonostante lei avesse aperto le porte di casa sua per accoglierlo nel 2016, lui aveva già in programma di ucciderla. E quindi, tutti quegli eventi sospetti erano semplicemente il tentativo di Jeffrey di costruirsi una sorta di alibi, una montatura, secondo cui c'erano persone pericolose che invadevano la loro proprietà e cercavano di far loro del male. Così, dopo l'omicidio, tutti avrebbero creduto che erano stati proprio quegli sconosciuti ad ucciderla. E in effetti, se ci pensate, questi avvistamenti sono iniziati nel 2016, appena lui si è trasferito da loro. Quindi, ha iniziato a costruire tutto questo in previsione dell'omicidio, dunque aveva già idea dal 2016 di ucciderla. Lui non si è mai pronunciato su questo fatto, non ha mai detto sì, è così, no, non è così. Comunque, subito dopo l'omicidio, quindi all'inizio delle indagini, tutto ha funzionato perfettamente, questo piano era perfetto, infatti la polizia e l'intera cittadina credeva che fossero gli intrusi, che quella notte si sono intrufolati in casa e hanno ucciso la donna. Pensate che c'erano talmente pochi sospetti su Jeffrey, che dopo l'omicidio di Melinda, il ragazzo ha anche aiutato a portare la sua bara al funerale. Alla fine, la polizia ha scoperto il coltello e alcuni vestiti insanguinati nella macchina di Jeffrey, e da lì sono partite le indagini contro di lui. Il ragazzo al processo si è dichiarato colpevole, ma non ha mai fornito ulteriori informazioni circa l'omicidio. Inoltre non si è mai scusato con la famiglia della vittima e non ha mai dato loro spiegazioni e si stava per sposare con Anna. Allucinante. Anna poi, al processo, che si è tenuto nell'ottobre del 2018, ha detto di sperare che Jeffrey passi il resto dei suoi giorni in carcere. E infatti il ragazzo è stato condannato all'ergastolo con la possibilità di chiedere la libertà condizionale dopo 33 anni di reclusione. Sempre al processo, Bruce ha dichiarato che il figlio, Kyle, in quel momento, quindi nel 2018, non aveva ancora capito che sua madre Melinda non c'era più. Aspettava ancora davanti alla finestra il suo ritorno, come era abituato a fare. Non sappiamo se adesso sia ancora così, ma senza dubbio anche lui ha sofferto e sta soffrendo moltissimo per la mancanza di sua madre, che, non importa quanto aspetti davanti alla finestra, non tornerà più. Nonostante la vicenda sia chiara, trascendo, vabbè, la parte del muovente, alcune persone sostengono che Jeffrey non fosse colpevole, o che lo fosse solo in parte. Secondo alcuni commenti che ho trovato sul web, qualcuno crede che il reale colpevole dell'omicidio fosse Bruce e che il ragazzo si fosse preso la colpa perché era stato incastrato, il che potrebbe spiegare in modo molto confuso il motivo per cui Jeffrey non ha mai fatto commenti riguardo l'omicidio. Secondo altre persone, invece, Jeffrey è colpevole e ha preso parte a tutto ciò, ma con la complicità di Bruce. Queste teorie sarebbero avvalorate anche dal fatto che amici stretti e parenti del ragazzo lo hanno descritto come una persona tranquilla, di buon cuore, che non sarebbe mai riuscito a compiere un delitto. Ovviamente queste sono solo teorie e opinioni anche abbastanza infondate di chi si è informato sul caso. Infatti le prove hanno dimostrato quello che vi ho detto in precedenza, ovvero che Jeffrey è l'unico reale colpevole di questa vicenda. Ma ora che lo conoscete anche voi, avete qualche opinione? Pensate che forse anche Bruce possa centrare qualcosa? Oppure è senza dubbio solo Jeffrey il responsabile? Fatemi sapere tutto quanto qui sotto, tutti i vostri pensieri, tutto. Intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di un genio, un genio che si annoiava tanto e quindi ha fatto qualcosa di terribile per passare il tempo. Per questo spero che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi, ricordate di massacrarvi il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi, oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei, e finalmente sto veramente pubblicando i cazzi miei su Instagram, quindi venite dai. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì, con un altro file. Ciao!